Gravi problemi alla viabilità in Alta Valle del Tevere. In questa occasione il consigliere regionale della Lega Nord Gianluca Cirignoni mette in evidenza le problematiche della strada provinciale 100 dove anche nello scorso fine settimana un autocarro si è ribaltato. Riferendoci alla viabilità ordinaria dell'Alto Tevere debbo dire che è in condizioni disastrose quindi abbiamo ritenuto opportuno che questi due senatori, il senatore Candiani e il senatore Consiglio, sono bergamaschi ma tengono molto l'Alto Tevere quindi venissero qui a verificare loro stessi per riportarlo poi anche in Parlamento e al Governo le condizioni in cui vertono le nostre strade, in cui sono le nostre strade. Condizioni disastrose, condizioni degradanti, insicure. Tutta la viabilità sia quella statale, quella provinciale e anche quella comunale. In particolare debbo dire che la Lega Nord per il mio tramite ma anche per il tramite dei miei colleghi Belloni e Mancini che sono consiglieri comunali abbiamo deciso di dichiarare una volta di più guerra questa situazione e quindi con manifestazioni, con atti e anche stiamo valutando di fare degli esposti in procura proprio per le problematiche che ci sono. È inaccettabile che ci siano strade in queste condizioni. La SP100, ricordo, è proprio il simbolo dell'incapacità della provincia di Perugia di dare una viabilità sicura, decorosa e ordinata alle nostre popolazioni e abbiamo visto in questi giorni camion che si ribaltano sullo stesso tratto, tra l'altro alla distanza di 100 metri, due camion, uno che portava il gas e un altro tir molto grosso che si è ribaltato adesso, altre auto fuori strada, ma perché non solo in maltempo ma sono strade che basta andarci a vedere chi le percorre lo sa, in particolare la SP100. La SP100 è piena di buche, avvallamenti, cunette, fossi che la costeggiano senza guardrail, che quando piove sono pieni d'acqua fino a 3 metri, vicino all'abitato di Fighille, o interi tratti di oltre 10 chilometri sottoposti al limite ridicolo a oggigiorno di 30 chilometri orari. Quindi questa è la condizione di queste strade. Su questo noi stiamo valutando di fare anche un esposto alla Procura della Repubblica perché veramente non se ne può più di avere strade che sono degne dei paesi del terzo mondo e non di un paese civile come noi riteniamo di essere e neanche di una terra laboriosa come l'Alto Tevere.